ritroviamo il sorriso la faina volante e dall'inizio del campionato così come gelegnocchi voleva giocare qualche minuto in serie a la faina invece voleva esordire con una squadra la primavera ha provato con la juventus ha provato con il mila nell'ultima puntata è andata a bresso ve lo ricordate azionate my sky per mila regina chi ti ha scelto chi ti ha scelto mi ha scelto saggiamente mister bollini della sampdoria e ti ha convocato per che partita di soddino perché partita mi ha convocato per la amichevole prestigiosa di ieri ieri mattina in quel di vogliasco contro il pieve ligure una squadra molto rocciosa c'era per noi alberto faoro nessuno quest'anno era riuscito a segnare al pieve ligure nessuno eppure la faina volante ieri a vogliasco con la maglia della primavera della sampdoria buongiorno buongiorno mister buongiorno hai fatto colazione si 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 è alimentato per bene spero non valga come doppi per il caffè con bottacca devi essere bello sveglio eh io sono sveglio ti vedo tono ti vedo tono non ho paura non è che c'è in giro volpi la faina teme le volpi stai sereno stai sereno cerchiamo di mettere in condizione il nostro nuovo acquisto serviamolo soprattutto a palle alte molto alte di gennaio no pond codonato ciancio compagnone marilungo castellazzi azzor da moto ferrari per farti partire è una responsabilità troppo alta questa è una bella maglia poi il 18 vado a porta ma ne gli annuffi questa pioggia non spaventa nessuno comunque si non è purtroppo non è purtroppo appunto il 5 da questa parte e poi corre ad abbracciare Bollini bocca al lupo per le finali grazie graffi il lupo mi raccomando tieni il cellulare aperto perché in qualsiasi momento della notte ti potrai anche chiamare tutte e due accesi anche la cabina grazie grazie Simone, devo dire qualcosa? grandissimo, un gol davvero campione, veramente muovenze da calciatore, da tenere d'occhio chi ti ricorda? Ugo Sanchez Ugo Sanchez Capriola Gloria ti devi sposare con Simone ma ci sto pensando se avessi conosciuto prima Paglina forse no io mi devo sposare con mister Bollini che davvero è stato di parola mi ha fatto giocare la dotevole e tanto ormai è di cosa in Parlamento che cosa non ce ne frega